EGA ha un'esperienza di oltre 40 anni nella progettazione, produzione e commercializzazione di furgoni refrigerati, isotermici e per carico secco. Nel 2013 siamo entrati a far parte del gruppo Leci Trailer. Da allora abbiamo quintuplicato la produzione e ci siamo ingranditi sul mercato internazionale fino a raggiungere una presenza globale. A questo scopo disponiamo di ampie strutture di 28.600 metri quadri, di cui 17.200 metri quadri sono destinati a produzione e post vendita. Il nostro forte impegno verso l'innovazione e il miglioramento continuo ci ha consentito di ottenere le principali certificazioni di qualità, sia a livello nazionale sia internazionale. Il risultato di questo continuo impegno è la realizzazione di veicoli che garantiscono una maggiore durata e affidabilità, con minori costi di manutenzione, nel corso della loro vita utile. Con dedizione e visione del futuro, EGA Leci Trailer si è evoluta negli anni fino a diventare quello che è oggi, un'azienda leader nella tecnologia di produzione di pannelli sandwich e nella costruzione di carrozzerie. Il nostro ampio catalogo di veicoli e la realizzazione di progetti speciali su misura ci permettono di rispondere a qualsiasi esigenza di trasporto, sia per la distribuzione urbana che per le tratte interurbane o a lunga distanza. Tutta la nostra gamma di celle isotermiche, celle refrigerate e trasporto messaggerie è progettata per essere venduta come kit, cassa assemblata o cassa montata su un telaio. Per fornire il miglior servizio ai nostri clienti, disponiamo di una vasta rete commerciale, con filiali e distributori ufficiali in tutto il mondo. Il nostro servizio tecnico commerciale fornisce una consulenza completa per la personalizzazione dei prodotti, garantendo un adattamento totale alle esigenze di ogni cliente, grazie alla nostra straordinaria flessibilità produttiva. Inoltre, il nostro back office multilingue fornisce il necessario servizio di logistica internazionale per la gestione del trasporto via terra e via mare dei nostri kit. In officina ci occupiamo di tutto, dalle riparazioni alla fornitura di pezzi di ricambio, passando per l'installazione di impianti di refrigerazione e piattaforme di sollevamento. Gestiamo anche tutte le pratiche necessarie per la legalizzazione dei veicoli, così come l'esecuzione di ristrutturazioni importanti e i rinnovi dell'ATP. E Gallici Trailer Più valore per le vostre carrozzerie, più valore per i vostri clienti.